Buongiorno ragazzi, ci troviamo anche questo giovedì online non solo per la didattica ma anche per il nostro momento settimanale di riflessione. Volevo oggi con voi ritornare sul Vangelo di domenica scorsa che raccontava la preparazione di una grande festa di nozze. Il Vangelo descriveva l'atteggiamento di dieci ragazze che attendevano l'arrivo dello sposo. Nella liturgia sponsale matrimoniale del tempo erano le ragazze che dovevano accompagnare lo sposo dentro alla casa nella quale si trovava la promessa sposa. Cinque di queste giovani sono attente, hanno preso l'olio per le loro lampade e non appena arriva lo sposo sono pronte a correre l'incontro e ad accompagnarlo dentro alla casa. Altre cinque invece che il Vangelo definisce stolte si sono dimenticate di procurarsi l'olio e mentre attendono le loro lampade cominciano a spegnersi progressivamente. Quando arriva lo sposo neanche le vede perché la loro lampada è senza carburante, è senza olio. Mi pare che questa parabola possa essere attualizzata anche nella nostra vita quotidiana, anche nel nostro impegno scolastico. L'olio delle lampade potrebbe proprio essere la metafora, il simbolo del nostro impegno, della nostra attenzione, della nostra passione, delle motivazioni che ci mettiamo nel venire a scuola, nello studiare e quanta motivazione, quanto impegno ci vuole particolarmente in questo periodo in cui effettivamente non c'è niente da festeggiare. La domanda che ci possiamo porre è questa, assomigliamo a quelle cinque ragazze sagge che si procurano anche una bella scorta di olio e quindi ad esempio ci prendiamo avanti nella nostra preparazione sapendo che magari abbiamo un compito imminente, un'interrogazione che si avvicina, oppure siamo come quelle sbadate ragazze della parabola che non fanno scorta di olio e quindi rimandano sempre ad un momento successivo sperando che l'olio che hanno basti. Sono domande semplici se vogliamo ma che toccano anche la nostra esperienza, soprattutto la vostra esperienza di studenti. La stessa domanda prof. Quanto abbiamo fatto scorta di motivazione, di impegno, anche del giusto grado di serenità per affrontare questo momento così difficile che ci chiede un impegno supplementare nella didattica a distanza. Siamo capaci di trasmettere ai nostri studenti quella gioia almeno di vederci, di essere in contatto e di continuare un percorso scolastico che ha poco dell'ordinario ma che ormai sta diventando consueto. Gesù dice che quelle cinque giovani che hanno fatto scorta di olio sono sagge e allora a me piacerebbe proprio insieme con voi chiedere il dono della saggezza, il dono della sapienza e il dono della prudenza, saggi, sapienti e prudenti per affrontare con serenità i nostri impegni, senza paura, sapendo che lo sposo e il momento della festa arriveranno e così poterci avvicinare con tranquillità e serenità a quel momento. Vi invito anche ad allargare il vostro sguardo a tutto quello che sta succedendo nel mondo e nel nostro paese. Non dimentichiamoci delle persone che stanno soffrendo, di chi è in difficoltà e se abbiamo anche fede nella provvidenza e nell'intervento del Signore nella storia e nella vita di ciascuno di noi, non dimentichiamoci anche di fare una preghiera, una preghiera che se fatta insieme diventa ancora più bella e sicuramente bene accetta al cuore di Dio. Buona settimana a tutti, a voi, ai vostri genitori, alle vostre famiglie. Grazie a tutti.